Nel cuore della Valle del Chianti, l'hotel Borgo Corte Freda è il luogo ideale dove trovare accoglienza, familiarità e sapori genuini, elementi che sapranno creare le atmosfere giuste per il banchetto di nozze. L'hotel, immerso in un piacevole contesto naturale, è ospitato da una dimora rurale accuratamente restaurata. Al suo interno si aprono ambienti perfetti per l'accoglienza di momenti conviviali, come la sala Corte Freda, caratterizzata da un arredamento in stile arte povera e dalle tonalità calde delle pareti e delle pavimentazioni. All'esterno, la loggia e la limonaia sono spazi che, appositamente arredati per l'occasione, possono essere utilizzati in qualsiasi stagione per cocktail, buffet e per vivere in un contesto naturale ogni fase del ricevimento. Questi incantevoli spazi verdi, inoltre, potranno fare da sfondo al vostro scambio delle promesse, permettendovi di celebrare in loco la cerimonia di nozze. La struttura vi verrà concessa in esclusiva nel giorno dell'evento. Il personale sarà a vostra completa disposizione per progettare e realizzare gli allestimenti e gli addobbi che faranno da scenografia all'evento. Lo staff ai fornelli curerà la preparazione di menu a base di piatti tradizionali, realizzati a partire da prodotti locali, venendo incontro a ogni vostra richiesta e contribuendo con scenografiche presentazioni dei piatti a rendere speciale ed esclusivo il vostro ricevimento.